Ciao a tutti, oggi prepariamo un altro famoso italiano, le polpette di melanzane, o in inglese, le polpette di melanzane. Vediamo l'ingredito e come possiamo farlo. Abbiamo usato 800 grammi di melanzane, 2 occhi, 4 tb di crumbia, 4 tb di farina, 1 tb di farina, 1 tb di salto, peper, 3 o 4 tb di melanzane, e naturalmente olio di friggio. Prima di tutto, ci siamo rilassati i nostri occhi, ma prima di rilassare la pelle. Prima di tutto, ci siamo rilassati i nostri occhi, ma prima di rilassare la pelle, ci siamo rilassati i nostri occhi, per 10 minuti, a 180 gradi. Prima di rilassare la pelle, ci siamo rilassati i nostri occhi, per 10 minuti. Prima di rilassare la pelle, ci siamo rilassati i nostri occhi. rilassati i nostri occhi, ci siamo rilassati i nostri occhi, ci siamo rilassati i nostri occhi, e ci siamo rilassati i nostri occhi. Ci siamo rilassati i nostri occhi, ci siamo rilassati i nostri occhi. Ora aggiungiamo tutti gli altri ingredienti, meno di friggio. . . . . e Ora mettiamo l'olio in un pote e quando l'olio è freddo, prepariamo le nostre pote e friamo e poi facciamo un po' di freddo e poi facciamo un po' di freddo e poi facciamo un po' di freddo Quindi la prigione facciamo un po' di freddo e fricodissimo e che facciamo un po' di freddo e pot�ano Siamo iniziando. Grazie. Spettacolare. È impossibile stoppare di comitare. Allora, ragazzi, vediamo la prossima. Ricordate di abbiornare al canale, di lasciare un like. E anche, quando trovi questo sign, lo pulite perché trovi altre ricette collegate con questa. So, ragazzi, vediamo la prossima. Ciao, ciao.